Campagna elettorale anomala ma anche molto complicata, i temi sono tanti per il Paese, morde l'inflazione, il caro energia, tanti problemi sul tavolo. Sì, tanti problemi, non ci voleva infatti adesso una campagna elettorale, bisognava andare fino alla fine della legislatura, purtroppo c'è chi invece ha pensato ai propri interessi invece che a quelli del Paese e mi riferisco al Movimento 5 Stelle ma anche alla Lega e a Forza Italia, quindi ci troviamo in questa assurda situazione di una campagna elettorale in piena estate e in un momento in cui il Paese vive un momento difficilissimo con il caro energia e tutto quello che non ci voleva. Noi abbiamo già chiesto di intervenire, che si convochi il Parlamento, che il Governo immediatamente prenda in mano la situazione, per noi è naturale chiedere a Draghi di trovare le risposte, molto meno naturale dovrebbe essere per coloro che hanno fatto cadere quel Governo, quindi che adesso Salvini si voglia chieda sì, che si intervenga quando è stato lui che è saltato sulla non fiducia. Quindi andremo avanti, è un'elezione campale, sono due visioni del Paese che si contrappongono e le persone, i cittadini e le cittadine devono sapere che questa volta il voto ha un peso più grande, quindi io invito tutti ad andare a votare perché ancora ad oggi oltre il 40% degli italiani non ha deciso. Quindi andate a votare, capite che c'è da una parte il Partito Democratico che vuole l'affermazione di un'Italia democratica e progressista, che guarda il futuro, che non ha paura delle grandi sfide, che vuole essere determinante in Europa, avere il peso di Paese fondatore e dall'altra parte c'è invece una destra oscurantista, retriva, che si vuole tirar fuori dal Consesso europeo e che vuole rimettere in discussione i diritti che ci siamo guadagnati con decenni di battaglie. La ricetta c'è per evitare che tante aziende chiudano e tante famiglie non riescano a pagare le bollette. Il Partito Democratico ha fatto delle proposte serie e concrete, le abbiamo messe sul tavolo a disposizione della decisione del Governo. Certo bisogna fare tutto il possibile, agire in sede europea per fare un tetto europeo, ma anche trovare soluzioni nostrane in Italia ed è quello che il segretario Letta vuole fare, vuole sganciare il prezzo del gas da quello dell'energia pulita ed è giusto fare questo, a vantaggio delle aziende che sono più in crisi e delle famiglie e questo è quello che spero saremo chiamati a fare da qui a poco.